Hai saputo niente della regione di Kursk? A proposito di cosa? La regione di Kursk? Abbiamo catturato parte della regione di Kursk, sul serio. Gli ucraini sono nella città di Suja ora. Siamo lì, abbiamo occupato parte dei territori della Russia. Sì, la guerra ora è stata portata nei territori della Russia anche. E lui dice, quando Khrushchev diede la Crimea all'Ucraina si portò via un pezzo di Ucraina. Quella parte, la regione di Kursk, era Ucraina una volta. E c'è un'altra notizia, dice lei, a proposito degli F-16. Ce li hanno dati e li stiamo usando. E questi erano i 100 prigionieri ucraini che sono stati liberati ieri. C'è stato uno scambio con altrettanti prigionieri russi. E ieri, tornando a casa, ovviamente non sapevano nulla di quello che è successo in questi due anni. Quindi questa è stata la loro preziosa reazione alle ultime notizie. Salve a tutti, amici e amiche. Aggiornamenti interessanti oggi che provengono dalla regione di Kursk. Quello che vi sto riportando proviene dai maggiori canali di analisi del conflitto, come quello di Denis Davidov e Combat Veteran Reacts. Confrontando poi queste fonti, anche con quelle che vengono da X, a cui loro attingono spesso, è da parte dei canali Z russi e di parte ucraina. Premetto che la situazione, come ho accennato ieri, è in divenire. Quindi prendete quello che vi sto per dire con le pinze. È in linea del tutto indicativa. Come sempre, cari amici, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale. Qui in basso troverete tutti i pulsanti per sostenermi. Inutile dire che il vostro supporto è fondamentale proprio per aiutarmi a portare avanti questo impegno. È da circa tre giorni che la propaganda russa continua a parlare di una loro offensiva schiacciante nella regione di Kursk. Non aspettano altro di dare buone notizie in televisione e probabilmente il Cremlino sta alla fine spingendo per ottenere dei risultati, dato che ormai sono quasi 50 giorni che c'è la presenza ucraina in territorio russo. Questa offensiva, da quello che stiamo vedendo, dalle fonti che arrivano, ripeto, da entrambe le parti, si sta concentrando qui, a sud di Corenovo, dove i russi stanno spingendo in direzione sud e sud-est, con l'invio di soldati e mezzi corazzati. Apparentemente questa avanzata russa ha riacquisito territorio russo in direzione sud, ma le cose non sono state e non sono così semplici per loro. Arrivano infatti dozzine di video che documentano la distruzione sistematica di queste colonne. Insomma, i russi per ottenere questo piccolo risultato, come al solito, stanno perdendo un'enorme quantità di mezzi e di uomini. La situazione sulla mappa è vero, mostra un avanzamento russo verso sud, ma nel frattempo le forze ucraine si sono spinte più a nord, conquistando altro territorio. Ma questa non è la parte più interessante. Qui riporto, ripeto, quello che anche altri stanno dicendo, per quello che è sempre un orientamento generale di previsione. E per confermarlo dovremo comunque attendere le prossime ore. E' notizia di due giorni fa, infatti, che mentre le forze russe spingevano a sud di Corenovo, gli ucraini si aprivano la strada nell'area di Novi Put, con una cospicua colonna di mezzi e uomini. Hanno attraversato questi campi semplicemente spostando le barriere anti-carri armati e poi non hanno incontrato nessuna resistenza. Quei campi non erano minati e non c'erano soldati russi a contrastarli. Oggi, che sto scrivendo questo articolo, molte delle fonti parlano di truppe ucraine che hanno presidiato questi villaggi a circa 3 chilometri dal confine. Ora, gli aspetti più significativi di questa nuova incursione in territorio russo sono due. Il primo è che finalmente possiamo procedere le forze ucraine in un'area che hanno indebolito in modo strategico nell'ultimo mese, soprattutto con la distruzione dei ponti. Il secondo, di cui molti canali oggi stanno argomentando, stanno parlando, è che questa avanzata sembra in tutto e per tutto una trappola per l'esercito russo, che sta cercando di sfondare a sud di Corenovo. Si parla di circa 5 chilometri da coprire per le forze ucraine in direzione est per chiudere questa avanzata russa in una sacca e isolarla. E per intenderci, 5 chilometri da un punto di vista militare sono niente. È giusto il tiro dei cannoni dei carri armati e dell'artiglieria, che sono perfettamente in grado di coprirlo. Senza contare poi la presenza dell'aviazione sia ucraina che russa. Quindi confrontiamo queste due mappe per avere un'idea della situazione e delle possibilità che gli ucraini riescano a chiudere in una morsa le forze di terra russe. E non si tratta poi ovviamente solo di questo, ma ripeto di diversi video, sia da parte dei droni di sorveglianza russa che ucraina, che mostrano gli ampi movimenti sul terreno di queste ore, la distruzione sistematica di una colonna russa di circa 46 mezzi blindati e corazzati, più pezzi di artiglieria, che ovviamente tutto documentato sono stati raggiunti dal tiro dei javelin, di droni e artiglieria ucraina. Tutto questo, parere mio personale, lascia intendere che questa offensiva russa fosse in qualche modo attesa dalle forze ucraine, ma ripeto potrebbe essere troppo presto per dirlo e dovremo aspettare le prossime ore per avere ulteriore conferma. E' comunque altrettanto interessante che gli ucraini siano riusciti ad avanzare verso nord, qui, segno che probabilmente i russi abbiano alleggerito la pressione, confidando nella loro doppia linea di difesa verso Kursk. Ed è da segnalare fra l'altro anche un altro piccolo sfondamento da parte ucraina, 5 km più a ovest, nell'area di Tiochino, qui. Per concludere, gli aggiornamenti sul fronte, segnalo anche altri progressi da parte russa nelle campagne verso Kolinivskiska, penso che si dica così. Il centro poi della cittadina di New York è interessato in queste ore dai combattimenti ed è tornato ad essere conteso fra le due parti. Il vettore invece di pressione russa più importante, quello diretto verso Pokrovsk, dalle mappe che sto consultando non mostra significativi cambiamenti. La stessa mappa di Deep State, che non si aggiornava da un paio di giorni, ce lo mostra piuttosto statico. In questo sito, se vi interessa passo il link in descrizione, c'è un'ottima analisi punto per punto di quello che sta succedendo in questi giorni, è il sito Euromaidan Press. Sintetizzo dicendo in linea generale che a quanto pare il piano ucraino stia funzionando e diverse brigate russe sono state spostate proprio in questi giorni dalla zona del Donetsk, quindi dal vettore verso Pokrovsk, per muoverle fino alla regione di Kursk. In questo sito, fra l'altro, e non solo qui, parlano addirittura di una controoffensiva ucraina qui a sud-est, proprio a causa della minore pressione russa dovuta a questi spostamenti. E non è l'unica area che sta mostrando crisi da parte russa. Dopo questo slancio estivo, per questa quasi, fra virgolette, quasi offensiva estiva ormai finita. Anche secondo Nexta TV, anche nella regione di Kharkiv, i militari russi stanno riportando una situazione catastrofica nel mantenimento delle posizioni nei villaggi ucraini occupati. E i militari dicono che l'attività dei droni ucraini si è estremamente insensificata. Il trafiletto dice, secondo i militari, l'unica possibilità che hanno di uscirne vivi è di ritirarsi o venire catturati. E lo ripeto di nuovo, prendiamo queste notizie con le pinze, sperando che siano vere, ma ecco, quello che posso dire io è che ho visto la quantità dei materiali video prodotti in questi giorni e i russi stanno perdendo uomini e mezzi ad un ritmo molto più alto del solito. Il numero indicativo dei soldati russi caduti in questi ultimi 30 giorni è impressionante. Si parla di qualcosa come 30.000-40.000 soldati. Dal 7 agosto sono quasi 50.000. Da quando sono iniziate le operazioni ucraine nella regione di Kursk. Questo ratio di perdite così assurdamente alto probabilmente è dovuto ad una strategia totalmente folle e non curante delle perdite. E può essere giustificato solo dal fatto che il governo russo ha voluto forzare la mano a tutti i costi per ottenere quanto più territorio ucraino possibile prima dell'arrivo delle piogge. Ma andiamo avanti con le altre notizie di oggi. Mi ricollego al discorso che ho appena fatto sull'avanzata folle senza considerare le perdite russe per parlare di questa intervista al capo dei servizi segreti ucraini, Chirlo Budanov, che ha parlato sostanzialmente della strategia russa del tutto adesso o niente. Il suo discorso, se vi interessa vi passo il link, è stato tradotto in tempo reale in inglese da un interprete ed è molto interessante. Mi ha fatto molto impressione sentire le sue parole e per dire esattamente quello che avevo detto anch'io un mese fa quando ho realizzato questo video, se vi interessa, che parlava delle perdite insostenibili. E non solo le mie opinioni, ma una marea di analisti militari in occidente dicevano le stesse cose parlando di previsioni molto specifiche che riguardavano l'insostenibilità di questa guerra sul lungo termine da parte di Mosca. E insomma, Budanov dice che stanno finendo le risorse, l'economia russa è al tracollo, la produzione di mezzi non riesce a compensare le perdite. La fine delle capacità militari russa è prevista fra il 2025 e il 2026. A quel punto si troveranno veramente in una brutta situazione, quando si renderanno conto che non riusciranno più a guadagnare terreno, a tenerlo soprattutto problema non di poco conto, specialmente quando invadi una nazione che non ha nessuna intenzione di arrendersi. Budanov è un poco più estremo in questo discorso, perché parla proprio di un tracollo della Russia verso la fine del 2025, in cui dice che a quel punto resteranno due grandi superpotenze nel mondo, gli Stati Uniti e la Cina. Per quanto valgono, possono valere queste previsioni, bisogna anche capire che non è un personaggio qualunque a parlare, ma è il capo dei servizi segreti ucraino, che è in contatto con le migliori fonti di intelligence occidentali, almeno in questo momento, e tutta la tecnologia militare e satellitare di osservazione e di ascolto del conflitto è a sua disposizione, ovviamente. Oltre al fatto che, come abbiamo visto in questi giorni, l'Ucraina sta dimostrando di avere un'impressionante rete di infiltrati in Russia, che compiono sabotaggi e raccolgono informazioni. Continuano comunque anche altre dichiarazioni da parte di pezzi grossi nei vertici militari, anche in Europa. In questo caso è un generale di stato maggiore tedesco che viene intervistato in televisione. Ora, cari amici, lancio un sondaggio qui. Quanti di voi sono stati in Germania? Avete mai visto la televisione tedesca? Cosa ne pensate di paragonare la televisione tedesca a quella italiana? Io ci sono stato in Germania. Non parlo per non fare sempre la parte del criticone, diciamo così. In ogni caso, questo generale ha parlato dell'eventualità di fornire missili a lungo raggio all'Ucraina. Ora, che vi devo dire, a me fa sempre molto impressione quando un militare di alto rango fa delle affermazioni che sembrano prese dai miei video. Ovviamente io non credo di essere la sua fonte di informazioni, ma come dire, mi sorprende tantissimo quando io stesso arrivo a delle conclusioni di militari di lungo corso ed esperienza e carriera. Ora, la domanda che io mi faccio è dove è il mio stipendio statale e dove sono le mie medaglie? Scherzi a parte. Il discorso molto ovvio di questo generale è che i missili a lungo raggio per l'Ucraina ovviamente non serviranno a colpire le città russe e gli ospedali come fanno loro, ma obiettivi militari strategici. A differenza dei droni che gli ucraini stanno usando, i missili militari hanno la grande utilità di colpire per esempio i bunker sotterranei dove si nascondono i pezzi grossi dell'esercito russo, i comandanti di brigata, possono colpire meglio e con più efficienza i depositi di munizioni e possono colpire per esempio grandi aree e grandi assembramenti di aeroplani sugli aeroporti. Tutto questo si traduce nel dare all'Ucraina la capacità di impedire che questa venga attaccata ogni giorno da bombardamenti da parte dell'aviazione russa e da missili da crociera. Quindi quando l'intervistatrice gli chiede a proposito dell'escalation e delle provocazioni alla Russia, lui dice molto chiaramente io qui vi rispondo solo da militare, la mia opinione è militare, è quella di un militare, quindi secondo me lui dice dare i missili all'Ucraina significa darle la possibilità di difendersi, né più né meno, ed è giusto come ragionamento perché se vieni attaccato, se vieni invaso e tutti i giorni ti attaccano le tue città, la migliore difesa è l'attacco e evitare che questi attacchi partino in sostanza. Ma il dibattito a proposito di questi temi, in questi giorni come sapete continua, ne avrete sentito parlare anche sui telegiornali. Si parla del fatto di non provocare la Russia, di non superare le cosiddette linee rosse. Un video fa ho prodotto per esempio il discorso di Putin che è stato intervistato per strada, in cui come al solito ha fatto minacce eccetera eccetera e ha detto che se gli ucraini utilizzeranno i missili occidentali considererà la Nato entrare in guerra con la Russia, tanti auguri signor Putin perché non penso proprio bene che non penso che la Russia ne venga fuori bene in un conflitto contro la Nato, anche solo contro l'Europa, figuriamoci se poi entra anche l'America nella Nato in un conflitto aperto con la Russia. Diciamo che ecco finirebbe piuttosto presto la storiella. In questa paginetta comunque vediamo tutte le volte che Putin ha minacciato l'Occidente in questo modo, con le frasi del tipo se utilizzerete questo la considererò una provocazione, se utilizzerete quest'altro la considererò come un escalation con le conseguenze, ha sempre parlato di conseguenze o dell'utilizzo del nucleare, insomma minacce velate più o meno. E questa paginetta viene riportato appunto la lista della spesa, se la Svezia si fosse unita a Nato, lo ha fatto, se l'Ucraina avesse ricevuto le munizioni da 150 mm, le ha ricevute tipo due anni fa, se l'Ucraina avesse ricevuto i pezzi Imars, che li sta usando con un successo strepitoso, fra l'altro anche nella regione di Kursk, gli Atachiems, che sta usando tranquillamente anche sul territorio russo, i carri armati Abrams e Leopard, e li sta usando anche con successo, anche se bisogna dire che sta usando tutto quello che trova. Uno dei più grandi fornitori dei mezzi all'Ucraina è la stessa Russia, perché gli ucraini semplicemente catturano i mezzi russi abbandonati, li riparano e li riportano in efficienza. Ad oggi l'Ucraina scusate, dispone di mezzi sia occidentali che russi. Se poi avesse colpito la Russia o la Crimea, se avesse usato munizioni cluster prodotte in occidente e le ha usate e le sta usando con estrema efficienza, se avesse usato dati di intelligence forniti dai satelliti occidentali, se avesse colpito le raffinerie russe, se avesse abbattuto aerei russi sul territorio russo e se avesse ottenuto gli F-16. Bene, tutte queste voci quindi possiamo spuntarle senza problemi. Quindi i missili a lungo raggio sono solo la prossima riga da aggiungere a questa lista, né più né meno. Un'altra delle cose che possiamo notare, usando i confronti fra queste due foto, per esempio, è l'effetto psicologico del gioco politico che lui stesso fa, lo stesso Putin fa, e l'Europa e l'America fanno. Proprio di questi giorni. Il dibattito circa i missili a lungo raggio, alla fine, sembra abbia fatto evacuare il porto di Novorossi, nel Mar Nero. Non lo so, probabilmente i russi sanno benissimo come andrà a finire questa storia dei missili a lungo raggio. Voi che dite? È un'incredibile coincidenza che la flotta del Mar Nero russa sia semplicemente sparita da Novorossi. Non lo so, voi ci credete alle coincidenze? Comunque, per parlare di linee rosse concludo il video di oggi con questa splendida animazione che ci aiuta a capire proprio il concetto di provocazioni, escalation e linee rosse. Con questo video vi saluto, come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, un abbraccio, alla prossima! Sousaio. Vladimir Vladimirovich, Ucraina пересекает наши красные линии. Что? Nemedlino dàte решительный ответ. No, Vladimir Vladimirovich, мы уже третий год пытаемся уничтожить Украину, и кроме террора мирного населения нам нечем ответить. Sousaio. Sousaio. Se si они Eltimolevich, ucraini прекратят связывать руки, e e anna получit разрешение на применение дальнобойного оружия по нашим военным объектам. E e e e e e ne c'è ucraina e ucraina. Sousaio. 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!